Musica Abbiamo sentito il mondo delle piccole e medie imprese, l'accoltiretti, i sindacati, volevo ricordare anche gli istituti missionari, che in particolare le suore conboniane che nel loro capitolo hanno deliberato l'adesione e il sostegno pieno alla campagna, l'istituto delle suore di Maria Giugliettrice con il Vides internazionale, che l'hanno portata in giro nei continenti attraverso la loro presenza internazionale, la Consolata, l'istituto missionario della Consolata, tanti altri e oggi volevo anche, vi è giunta il suggerimento da alcuni qui in sala, lanciare un appello alla conferenza episcopale italiana che è riunita, perché forse anche la nostra Chiesa deve liberarsi un po' dalla rigidità del maschilismo e dare spazio alle donne, questa è un'occasione attraverso la campagna di lanciare un forte segnale anche da parte della Chiesa italiana. Darei la parola adesso, proprio in questo clima di apertura internazionale, ad un'altra persona che si è fatta avanti spontaneamente, partendo dalla musica e dai contatti di Paolo Casa, che ha fatto la musica della canzone di Amy Stewart che avete sentito, mi scuso con lui per i piccoli, la non perfetta qualità, ma dicevo qui siamo in un ambiente non da spettacolo, e quindi l'audio non era perfetto per un artista, ma attraverso questo negli Stati Uniti Clarissa Barth si è proposta per sostenere la campagna e ci ha chiesto cosa posso fare io negli Stati Uniti ed è iniziato un lavoro di sua spontanea volontà per la quale la ringrazio tantissimo, in questi giorni è stata con noi e oggi ci racconta il perché e che cosa sta facendo lei negli Stati Uniti per sostenere il Nobel Aleman africano. Ma perché è molto semplice, scusate, il perché è molto semplice perché non si poteva dire di no, e come si fa a dire di no una cosa così grande, una cosa così meravigliosa, una cosa che potrebbe veramente dare, fare un enorme cambiamento nel mondo, dando insomma questo grande risalto alla donna africana. Io sono venuta qui per conoscerle proprio una a una e fare un'intervista perché ho fatto dei video che poi vi dico dove andranno a finire, però ho fatto un video di ciascuno, un'intervista ciascuno per capire chi sono, per conoscerli meglio. Era un po' difficile raccontare questa campagna dagli Stati Uniti non conoscendo le mie sorelle, diciamo, ci chiamiamo sorelle felicemente per qualche giorno perché innanzitutto la donna africana è donna come tutte noi e quindi noi come donne siamo sempre curatrici, no? Curiamo tutti, i bambini, i famigli, i genitori, tranne noi stesse molte volte. E quando noi abbiamo bisogno, chi ci cura? Le nostre amiche, no? E quindi le nostre sorelle. E quindi io sono veramente fiera di chiamare queste donne, sorelle mie, sono di una dignità, di una classe, di un'eleganza nel loro racconto. Non in questi giorni non ho visto una lacrima, tranne la mia forse perché ascoltare certi racconti, vi garantisco che voi avete anche sentito con le vostre orecchie, quanto sono difficili ad ascoltare, difficili a sentire, difficile capire che giovedì oggi certe cose possono ancora accadere. Però queste donne sono arrivate con grande orgoglio del loro paese e io, insomma, sono felicissima, fiera, orgogliosa anch'io di parlare con voi, di avere avuto questa opportunità, negli Stati Uniti farò del mio meglio. Prima Elena ci ha detto, guardate, io, già per me essere qui tra di voi, già questa platea, già essere nominate per noi vuol dire già aver vinto. E' un gran passo avanti, ma io veramente sarò la donna più felice del mondo con le mie sorelle dell'Africa quando vinceranno il premio Nobel per la pace. Grazie.